Oggi continuiamo questa carrellata molto molto introduttiva sulle tecniche di ricostruzione tomografica con applicazione principale in medicina e ripartiamo da questa diapositiva che un po' racchiude molti dei concetti importanti che avevamo sottolineato nel primo incontro e quello che abbiamo detto è che questi sistemi di imaging possono essere da un punto di vista formale descritti come dei sistemi lineari e ovviamente la linearità è garantita soltanto in un certo range di utilizzo in un certo range di valori delle funzioni che mandiamo come input ho fatto l'esempio della fotocamera del telefono cellulare se noi riprendiamo un oggetto molto molto luminoso che ne so il sole allora siamo sicuramente al di fuori del regime di linearità questa stessa premessa può essere fatta per gli scanner medicali ovviamente l'oggetto che supera il range dinamico quindi che simula come dire le caratteristiche del sole in questo caso dipende dalla modalità di imaging ecco nel caso dell'attack che si basa sulla trasmissione di raggi X posso immaginarmi un oggetto molto molto denso in quanto è la densità che stiamo andando a misurare che ne so faccio un esempio un cavo elettrico con un nucleo di rame di diversi centimetri di diametro ecco quello è l'equivalente del sole per uno scanner TAC sicuramente non è possibile fare un imaging corretto con oggetti di questo tipo nel caso di uno scanner basato sulla rivalazione di raggi gamma ecco una quantità di attività molto molto alta fa più o meno lo stesso effetto cioè provoca un andare al di fuori del regime di linearità dello scanner e quindi un violare un po' tutte le condizioni che sono alla base sia del funzionamento fisico dello strumento ma anche alla base dei principi di ricostruzione dell'immagine allora come abbiamo schematizzato un sistema lineare abbiamo schematizzato come una scatola nera che può essere descritta da un operatore che indichiamo per esempio con la lettera SS per sistema va benissimo in ingresso nel caso degli imaging di tipo medicale mandiamo tipicamente una funzione la cosiddetta funzione oggetto che rappresenta una caratteristica propria del paziente che stiamo andando ad analizzare che ovviamente non può dipendere dalle caratteristiche dell'estrumento in quanto rappresenta la verità cioè ciò che vogliamo andare a misurare con un'accuratezza che sia la maggiore possibile e questa tipicamente è una funzione che dipende sia dalle coordinate spaziali che dal tempo cosa abbiamo in uscita? in uscita abbiamo quelle che chiamiamo immagine che vorrebbe essere la rappresentazione più fedele possibile dell'oggetto compatibilmente con le prestazioni dello scanner e se facciamo un po' di conti e andiamo a vedere un po' cosa succede quello che possiamo dire con una discreta accuratezza è che l'immagine che otteniamo è data dalla convoluzione dell'oggetto per una certa funzione che descrive un po' la cosiddetta risposta impulsiva dello scanner e a questo però dobbiamo aggiungerci qualche cosa che è inevitabile in tutti i processi di misura fisica cioè il rumore, quindi una variabile aleatoria più degli elementi indesiderati che un po' rappresentano quella che è la malposizione del problema inverso di ricostruzione li chiamiamo artefatti ecco, in realtà è tutto molto più complicato di così questa è proprio anche una rappresentazione molto molto approssimata in primis perché quello che non emerge qui è che la F è una funzione continua dello spazio io sono un potenziale paziente la densità sul mio corpo cambia in maniera continua rispetto alle variabili spaziali e temporali quello che abbiamo in uscita è tipicamente invece un oggetto discreto quindi campionato su un insieme di punti però finito questa espressione in realtà però ci aiuta a sottolineare un aspetto importante cioè che quello che stiamo andando a vedere è un qualche cosa che racchiude al suo interno l'informazione che stiamo cercando ma non la esprime nella maniera, come dire, più fedele possibile quindi ogni medico che guarda un'immagine deve sapere che l'informazione che stiamo cercando è celata in qualche modo all'interno del dato che gli si presenta davanti allo schermo e la differenza tra queste due entità deve essere ben chiara quindi anche in questo caso quello che si sta facendo è risolvere un problema inverso cioè a dire guardo un'immagine anche ricostruita tomograficamente ma anche in questo caso so che a causa delle prestazioni limitate per motivi fisici dello scanner l'oggetto può essere diverso da quello che io sto guardando in realtà questa è un'operazione che se trascuriamo il noise e gli artefatti può essere assimilata a un'operazione di convoluzione e tipicamente questo è un problema inverso che si risolve con delle tecniche per l'appunto di deconvoluzione ahimè la deconvoluzione in presenza di rumore è un brutto affare ecco quindi ci vogliono delle tecniche di regolarizzazione e sicuramente non è possibile ottenere esattamente F conoscendo soltanto l'espressione analitica della PSF una possibile deconvoluzione sarebbe siccome noi sappiamo che nel dominio delle frequenze questa operazione qui è equivalente a un prodotto nel dominio delle frequenze per il teorema di convoluzione allora intuitivamente ci potrebbe venire da pensare va bene, allora la trasformata di Fourier di G è uguale al prodotto tra la trasformata di Fourier di F che non conosciamo e la trasformata di Fourier della PSF che l'abbiamo misurata in qualche maniera allora F come la otteniamo? beh la sua trasformata di Fourier la potremmo ottenere ad esempio come la divisione tra la G grande e la risposta in frequenza della PSF ahimè tutti i sistemi fisici hanno delle PSF che tendono a zero abbastanza presto all'aumentare delle frequenze spaziali quindi fare una divisione comporterebbe un'amplificazione molto molto ampia proprio di quell'informazione che era chiusa nelle alte frequenze spaziali che è il rumore quindi questo approccio che vi ho appena detto non funziona vi avevo anche parlato diciamo di quello che è il significato vero di fare ricostruzione adesso andiamo un passo indietro quindi la G che abbiamo visto finora in realtà era già il risultato di un'operazione matematica di ricostruzione ma cosa significa veramente fare ricostruzione? beh il significato è il seguente noi abbiamo un certo oggetto conosciamo come funziona il nostro scanner e quando il nostro oggetto viene posizionato all'interno dello scanner quello che otteniamo sono delle informazioni parziali su di esso informazioni ovviamente incomplete all'aumentare del numero di informazioni che siano tutte linearmente indipendenti tra di loro noi possiamo utilizzare delle formule che ci permettono di fare il passaggio inverso cioè rispondere alla seguente domanda qual è l'oggetto che è maggiormente compatibile con questa serie di informazioni parziali che in questo caso vengono sotto la forma di dati in proiezione vi avevo detto se prendiamo una sola radiografia quindi una sola proiezione le configurazioni anatomiche del paziente che si adattano a questo risultato sono potenzialmente infinite quindi quello che abbiamo da un punto di vista formale è che più configurazioni quindi dallo spazio dell'oggetto vanno a puntare in una stessa immagine in uno stesso dato quindi in questo caso abbiamo detto che il problema inverso cioè passare dai dati all'oggetto è un problema inverso mal posto in quanto non c'è unicità ora c'è da fare però una precisazione perché è possibile anche avere delle informazioni a priori su questo oggetto che in qualche modo limitano questa ambiguità diciamo che se una persona che non conosce l'anatomia tipo me guarda questa immagine beh questa è perfettamente compatibile con una struttura anatomica in cui il cuore del paziente si trova fuori dal torace per esempio davanti o dietro ecco magari non è un'anatomia compatibile con la vita però è sicuramente compatibile con questa immagine che stiamo guardando allora che differenza c'è tra osservare questa immagine viene qui da me che non conosco l'anatomia o da un radiologo istruito e formato che nel suo caso il possibile range di oggetti è sicuramente molto molto più limitato e questa limitatezza viene proprio dalla sua istruzione in altre parole anche informazioni apparentemente sicuramente ambigue come dire incomplete possono essere utilizzate con successo per fare una diagnosi meno male saremmo spacciati se non fosse così dovremmo prescrivere un attack per qualsiasi cosa e questo ovviamente non è possibile ecco apro una parentesi lo scopo di tutte queste tecniche da un punto di vista proprio dell'utilizzo pratico non è sempre e comunque quello di ottenere l'immagine più bella ed eccezionale possibile in quanto soprattutto se si ha a che fare con tecniche che utilizzano radiazioni ionizzanti quasi sempre nella maggior parte dei casi più bella è l'immagine e maggiore è l'esposizione alle radiazioni per il paziente quindi maggiore è anche il rischio quindi nella pratica cos'è che bisogna fare diciamo il radiologo è istruito ad accontentarsi dell'immagine con il minore contenuto informativo possibile purché gli permetta di rispondere a un determinato quesito diagnostico questo è molto importante quindi ovviamente tutto quello che noi facciamo ecco personalmente come fisico in questo campo della ricerca quindi matematiche, tecniche e software ha uno scopo ben preciso che è quello di come dire ottenere immagini migliori a parità di rischio per il paziente che poi è la stessa cosa che dire anche a parità di qualità dell'immagine ridurre il rischio per il paziente più o meno sono due facce della stessa medaglia questo ovviamente può essere fatto soltanto con una stretta interazione con gli utilizzatori finali deve essere fatto in un contesto multidisciplinare io ho la fortuna e la responsabilità di fare il ricercatore in un istituto l'istituto di fisiologia clinica che è multidisciplinare per missione fin dalla sua nascita negli anni 60 piace sempre ricordare che soltanto nel mio gruppo di ricerca ci sono chimici biologi fisici medici e questa non è soltanto una quotidiana occasione di arricchimento culturale reciproco spero anche per gli altri ma è anche forse soprattutto la cosa più importante è un ostacolo a quella tendenza a chiudersi come dire in una nicchia di autoreferenzialità che è sicuramente dannosa soprattutto in un contesto come quello della ricerca in medicina questo ci tenevo a sottolinearlo bene quindi andiamo avanti con le tecniche vi ho detto l'altra volta che ci sono diciamo due grandi famiglie di tecniche di ricostruzione di immagini da proiezione e una di queste famiglie ve l'ho illustrato ovviamente in maniera molto introduttiva e molto superficiale è quella delle tecniche iterative qual era il meccanismo beh diciamo la premessa che noi facevamo è che l'oggetto che stiamo cercando di ricostruire può essere rappresentato in maniera discreta quindi come un insieme ordinato di bin chiamiamoli così non li chiamiamo pixel perché già il pixel dà un'idea di quadrato in realtà in queste tecniche il pixel non deve essere necessariamente quadrato e sempre diciamo ragionando in termini discreti abbiamo cercato di correlare i dati a nostra disposizione con le incognite che sono questi bin dell'immagine stessa quindi impostando tutto come un sistema di equazioni lineari questi sistemi di equazioni lineari a causa della loro dimensione e del grande numero di coefficienti delle matrici che si vengono a formare che sono quasi tutti i zeri non possono essere invertite con le tecniche analitiche che tradizionali che studiamo a scuola e che insegnate ai vostri studenti ma devono essere ahimè invertite con delle tecniche approssimate e iterative quindi andiamo a cercare più che una soluzione andiamo a cercare una pseudosoluzione cioè una soluzione che meglio si adatta ai dati a nostra disposizione oggi invece vi presenterò l'altra famiglia di tecniche in cui il ragionamento è un po' diverso cioè in questo caso l'oggetto che vogliamo ricostruire è una funzione continua dello spazio R3 se lo consideriamo diciamo un oggetto nella sua tridimensionalità nella maggior parte delle tecniche si parte da una singola sezione del paziente quindi in un piano per cui quello che vi illustrerò io un po' più nel dettaglio è la ricostruzione in R2 ovviamente la matematica si è spinta alla formalizzazione del problema in RN R maggiore di cioè dimensione maggiore di 3 non vedo grandi applicazioni mediche però non si sa mai e quindi in questo caso quindi l'oggetto non è discreto ma è continuo e i dati a mia disposizione cioè quelli acquisiti mediante gli scanner sono formalizzati come delle trasformate integrali della funzione continua che vogliamo ricostruire quindi il problema della ricostruzione si basa sull'inversione di queste trasformate integrali ecco tutto questo lavoro si basa su questa scoperta fatta nel 1917 dal matematico austriaco Radon che dimostrò che una funzione continua integrabile a supporto compatto in RN può essere ricostruita se conosciamo tutti gli integrali nei piani che intersecano l'oggetto stesso tutti i possibili piani che intersecano l'oggetto in RN quella che ho scritto qui è una possibile espressione analitica di questa trasformata integrale che si viene quindi a utilizzare trasformata per l'appunto di Radon e quello che vedete per come è scritto rappresenta qui siamo in R3 l'integrale piano di F su un piano che ha equazione x scalar alfa dove alfa è il vettore il versore normale al piano stesso e R è la distanza del piano dall'origine delle coordinate quindi se noi conosciamo il valore dell'integrale di questa F su tutti i possibili piani che intersecano l'oggetto allora abbiamo delle formule di inversione che ci permettono di ricostruire con esattezza F ahimè non ce ne facciamo granché così come questo risultato tant'è vero che fu un risultato che non ebbe troppo clamore tra i contemporanei di Radon andò nel dimenticatoio e poi fu riscoperto varie volte nella storia ma tutti sono concordi sul fatto che il primo a ottenere questo risultato fu Radon eccezionale che neanche Hounsfield che ha inventato l'attacca che ci ha preso il Nobel conosceva i risultati di Radon infatti lui la ricostruzione la fece con le tecniche iterative che abbiamo visto l'altra volta Cormac che era il fisico sudafricano che lavorò indipendentemente da Hounsfield in realtà era a conoscenza di questi risultati le sue i suoi primi esperimenti si basavano proprio su questo perché anche non è troppo utile questa espressione così come è scritta qui beh perché quando noi analizziamo un paziente nella TAC o nella PET i dati che abbiamo poi in uscita come dato grezzo non sono degli integrali piani ma sono degli integrali di linea perché quello che facciamo è integrare la funzione oggetto lungo le linee di propagazione di questi raggi che siano x in trasmissione o che siano gamma in emissione ok quindi è conveniente definire un'altra trasformata integrale che la chiamiamo per l'appunto trasformata a raggi x non la chiamiamo noi ma insomma il mondo l'ha chiamata così e questa volta anche questa può essere definita per funzioni in RN e qui abbiamo come output un integrale di linea tenendo come parametro anche in questo caso la direzione di propagazione del raggio è un qualunque punto da cui questa linea passa questa è molto comoda anche per esprimere i dati provenienti da scanner TAC di terza e quarta generazione in cui tutti i raggi x provengono da un unico vertice che è la macchia focale del tubo a raggi x scopriamo però confrontando queste formule che se lavoriamo con funzioni definite nel piano quindi in R2 le due trasformate coincidono quindi invertire la trasformata a raggi x coincide con invertire la trasformata di Radon e quindi adesso vi parlerò dell'inversione della trasformata di Radon in R2 prima faccio vedere una serie di possibili applicazioni di soltanto per citarle quindi quella medica ne stiamo parlando ma già negli anni 50 Braiswell utilizzò queste tecniche basate sulla trasformata di Radon per problemi di radioastronomia esistono anche delle applicazioni in campo geologico quindi in questo caso quello che andiamo a integrare è la ampiezza delle oscillazioni di tipo sismico nel campo dell'image processing può sembrare magari un po' come dire sotto utilizzato però la trasformata di Radon possiamo andare a vedere che è un ottimo identificatore di linee nelle immagini se abbiamo un problema di imaging quantitativo in cui prendiamo un'immagine digitale identifichiamo le linee allora la trasformata di Radon ha proprio questo funzionamento e anche i microscopi elettroniche soprattutto microscopi elettroniche in trasmissione anche in questo caso fondamentalmente stiamo lavorando con dei dati integrati nello spazio allora proviamo a introdurre qualche strumento formale che poi ci permetterà di arrivare a delle formule di inversione di carattere pratico per dirle in un'altra maniera proviamo a vedere tutti questi bei risultati come andiamo a spiegarli a un computer quindi se lavoriamo in R2 la nostra funzione oggetto è una funzione f di x y vi ho detto a supporto compatto insomma il paziente tipicamente lo è ha un'estensione finita nello spazio il che è un problema perché nelle formule di inversione ci farebbe più comodo che questa funzione fosse limitata in banda cioè che fosse limitata nel dominio delle frequenze purtroppo il teorema di Parsel ci dice che non può essere diciamo questa cosa non si può verificare in entrambi i domini però accontentiamoci di avere noi pazienti un'estensione limitata nello spazio che occupiamo dunque partendo da questa geometria utilizziamo per l'appunto proprio la modalità di acquisizione dei dati che utilizzava Hounsfield nella macchina EMI Mark 1 quindi una geometria in cui sequenzialmente le proiezioni venivano fatte su dei pennelli di radiazione inclinate ad un angolo fissato rispetto all'asse y dopo aver finito la sequenza ad un certo angolo l'angolo varia e andiamo a fare le acquisizioni sull'angolo successivo quindi abbiamo una serie di campionamenti delle possibili proiezioni dell'oggetto che sono date dal prodotto tra il numero di campionamenti sulla direzione radiale e il numero di posizioni angolari dello scanner per quanto riguarda il numero di posizioni angolari tipicamente l'intervallo di acquisizione va da 0 a pi greco si può arrivare anche a 2 pi greco ma credo che sia abbastanza banale dimostrare geometricamente che da pi greco in poi i dati sono ridondanti in quanto invece di acquisire gli integrali di linea in una direzione li acquisiscono nella direzione opposta ok allora operativamente andiamo a definire l'integrale di linea di f lungo una certa direzione e scopriamo per quelle che sono le leggi di attenuazione dei raggi x ve ne avevo parlato io l'altra volta anche il professor del guerra nel primo incontro abbiamo un'attenuazione di tipo esponenziale man mano che questi raggi attraversano la materia e questa attenuazione esponenziale che nel caso di un oggetto omogeneo quindi uniforme la possiamo esprimere banalmente come i uguale i 0 per e alla meno mu per un certo spessore adesso questo prodotto che ho all'esponente meno mu per un certo spessore non va più bene perché non ho un oggetto omogeneo ecco quando lo applico su un paziente al posto di meno mu per lo spessore ci devo mettere che cosa esattamente l'integrale di linea dei mu lungo l'oggetto quindi facendo un logaritmo andiamo a vedere che è proprio quello che noi stiamo cercando quindi in questa formula ho meno logaritmo naturale di che cosa dell'intensità di raggi X registrata come dire dall'altra parte dell'oggetto rispetto al punto di emissione dei raggi fratto l'intensità non attenuata che abbiamo sempre a nostra disposizione la potremo misurare in una sessione separata ma tipicamente la andiamo a trovare qui nei pixel di rivelazione che non sono coperti da nessun punto dell'oggetto quindi abbiamo in questo caso una connessione operativa tra un singolo punto della trasformata di radon dell'oggetto cioè l'integrale di linea di F e un dato misurato sperimentalmente che è questo oggetto qui l'insieme di tutti questi integrali di linea per tutti i campionamenti radiali e per tutti i campionamenti angolari è per l'appunto quella che abbiamo indicato con P nella slide precedente quindi la trasformata di radon ora dal punto di vista grafico la trasformata di radon in R2 viene anche chiamata nel gergo sinogramma sinogramma in quanto oggetti puntiformi nel dominio delle funzioni oggetto vengono mappati in sinusoidi nello spazio delle proiezioni andiamo a vedere come mai diciamo la maniera difficile è quella di prendere un oggetto puntiforme che possiamo descrivere convenientemente con una delta di Dirac bidimensionale darlo in pasto alla formula che abbiamo scritto prima della trasformata di radon e vedere che esce fuori questa scrittura qui ma vediamolo graficamente che forse è più semplice cosa succede se noi prendiamo un oggetto puntiforme e lo mettiamo qui magari nello spazio dell'oggetto a una certa distanza dall'origine lungo l'asse x andiamo a vedere nello spazio di radon in cui le coordinate questa volta cosa sono sono la coordinata radiale che poi sarebbe la coordinata x di questo sistema di riferimento ruotato e la coordinata angolare trasformata in radon cioè il sinogramma è funzione non più di x y ma di un x primo cioè un x ruotato e dell'angolo del gantry allora se acquisiamo il primo dato con il gantry a 0 gradi cioè allineato lungo l'asse y vediamo che la proiezione di questo oggetto che è una delta posto a non ci leggo neanche io ma credo che sia una coordinata del tipo 1 0 x y se andiamo a proiettare questo dato avremo qui come prima riga del sinogramma una delta di dirac unidimensionale che è diversa da 0 soltanto nel punto x primo uguale 1 se noi facciamo l'acquisizione a 90 gradi questa proiezione si sposta nel mezzo se noi proviamo a fare questa procedura per tutti gli angoli che vanno da 0 a pi greco otterremo un profilo di questo tipo qui vediamo subito che quando andiamo a pi greco cioè a 180 gradi iniziamo a proiettare dall'alto verso il basso la proiezione del mio oggetto puntiforme si ritrova dall'altro lato quindi specchiato rispetto alla coordinata radiale quindi abbiamo anche delle condizioni di periodicità del sinogramma sulle quali non vi tedio vediamo qualche sinogramma invece di oggetti un po' più realistici ecco molto comodo e molto utile quando si fanno test di implementazione di algoritmi di ricostruzione fare delle simulazioni e delle simulazioni che però siano più ideali possibili perché noi vogliamo testare l'algoritmo non vogliamo essere disturbati da altri elementi che riguardano la non idealità dei dati sperimentali che stiamo andando ad acquisire quello che vi faccio vedere qui è una simulazione che ho fatto numerosi anni fa non vi ricordo neanche io quando in cui abbiamo un oggetto molto semplice definito nel piano XY composto da fondamentalmente un cilindro con una certa densità e un altro cilindro fuori asse di una densità maggiore come si fa a simulare la trasformata di radon di questo oggetto è abbastanza semplice per ciascuna linea di propagazione si calcola la lunghezza della corda poi si moltiplica per la densità e ho bello ottenuto la trasformata di radon quello che vedete qui in basso purtroppo il contrasto non è ottimale è per l'appunto il sinogramma scopo della ricostruzione è trovare una qualche forma di programma software che implementi una formula di inversione tale che mettendo questo come input questa volta riottengo questo in output ok ahimè faccio sempre questo elenco delle approssimazioni che facciamo quando facciamo questi conti anche qui in questa definizione che può sembrare abbastanza completa c'è un'approssimazione questa definizione qui va bene solo se utilizziamo radiazione monocromatica ad esempio quella che si può ottenere nelle infrastrutture di luce di sincrotrone non dietro l'angolo tanto per capirci quando abbiamo a che fare con luce reale emessa da tubi diciamo tradizionali quindi basati sul principio del bremstralum della radiazione di frenamento questa ipotesi non è più verificata quindi già qui abbiamo un'approssimazione che poi ritroveremo a valle sotto forma di artefatti questo è il sinogramma invece di un oggetto un po' più realistico è un torace umano a livello diciamo del fegato ora cerchiamo di ottenere una formula di inversione è molto interessante secondo me è illustrarvi le connessioni tra la trasformata di Radon e la trasformata di Fourier scopriremo che anche la ricostruzione in tomografia è in fondo un'applicazione dell'analisi armonica che relazione c'è tra la trasformata di Radon e la trasformata di Fourier allora è possibile dimostrare anche abbastanza facilmente ai miei studenti a fisica lo faccio dimostrare sempre che se prendiamo una proiezione di un certo oggetto lungo una data direzione ad angolo fissato phi e se facciamo la trasformata di Fourier unidimensionale lungo la coordinata radiale di questo profilo qui otteniamo un profilo del genere e questo profilo è uguale a una sezione passante per l'origine dello spazio delle frequenze della trasformata di Fourier bidimensionale dell'oggetto stesso quindi fare una proiezione significa acquisire una fetta di spettro dell'oggetto in formule lo possiamo scrivere così diciamo con le lettere maiuscole indichiamo le trasformate di Fourier con le lettere minuscole rispettive funzioni si fa effettivamente prima a scriverlo che a dirlo diciamo che quindi la trasformata di Fourier unidimensionale della proiezione della f a un certo angolo phi coincide con la trasformata di Fourier dell'oggetto stesso presa su una sezione centrale dello spazio delle frequenze inclinato della stessa inclinazione con cui abbiamo preso la proiezione ma questo è un risultato molto importante perché se ci pensate quando noi proviamo a fare delle proiezioni dell'oggetto a possibilmente infiniti angoli è come se stessimo campionando tutta la trasformata di Fourier dell'oggetto stesso problema nella pratica non arriveremo mai a fare infiniti campionamenti e questo è un problema ecco qui c'è qualche relazione funzionale tra le varie entità matematiche che abbiamo nominato quindi se restiamo qui sulla funzione f vediamo che la f piccola e la f grande ovviamente sono collegate alla trasformata di Fourier bidimensionale stesso dicasi per la p qui in alto la f piccola è collegata alla p piccola dalla trasformata di radon in due dimensioni e invece la f grande è collegata alla p grande da un'operazione di campionamento lungo questa linea questa cosiddetta sezione centrale ecco perché questo si chiama teorema della sezione centrale in letteratura lo troverete anche con altri nomi in letteratura inglese si chiama Fourier slice theorem o projection slice theorem ci sono diversi nomi analoghi per indicare la stessa cosa ecco cominciamo a visualizzare una possibile formula di inversione se abbiamo detto che la proiezione dell'oggetto ci dà accesso alla trasformata di Fourier dell'oggetto beh allora acquisiamo il più possibile di queste proiezioni e avremo accesso a una buona parte una buona quantità di campioni della trasformata di Fourier dell'oggetto quindi dopo un'acquisizione di tipo realistico quindi come dire discreta sia in senso radiale che in senso angolare applicando il teorema di sezione centrale quello che di fatto abbiamo è la conoscenza della trasformata di Fourier della f di x y su una griglia radiale fatta in questo modo qui ora se noi avessimo infiniti campioni la ricostruzione sarebbe immediata facendo un'antitrasformata di Fourier bidimensionale quando passiamo alle trasformate discrete ahimè la griglia radiale non ci va tanto bene quindi quello che dovremmo fare è un'operazione di interpolazione per passare dalla griglia radiale a una griglia cartesiana nel dominio delle frequenze e questa è un'operazione che si fa si è fatta più che altro in passato in questa interpolazione nel gergo viene chiamata gridding e una volta che ho fatto il gridding allora a questo punto ho la ft su una griglia rettangolare e faccio la trasformata inversa in due dimensioni ora ahimè nel dominio spaziale le interpolazioni danno buoni risultati lo vediamo ogni giorno con i cellulari che ci restituiscono immagini che in realtà sono spesso e volentieri interpolate nel dominio delle frequenze questa interpolazione è un po' più complessa può dare luogo a artefatti abbastanza pesanti dal punto di vista computazionale non è detto che sia così efficiente anche se in realtà ci siano degli algoritmi molto veloci per fare la trasformata e l'antitrasformata di Fourier sui computer quindi quello che poi il mondo ha deciso di fare dico il mondo perché la strategia adottata nella totalità degli scanner clinici è un'altra e aspettare a diciamo andare nel dominio discreto continuare a ragionare in termini di funzione continue e fare un passaggio di coordinate nella formula di antitrasformata di Fourier bidimensionale lo dico più lentamente se noi facciamo un cambio di variabili nel dominio delle frequenze allora otteniamo un'espressione di questo tipo dove ho un termine jacobbiano del passaggio di coordinate che è questo modulo di nu se io inserisco questa espressione nella formula di antitrasformata di Fourier in due dimensioni ottengo applicando il teorema di sezione centrale e quindi sostituendo la f alla p e inserendo questo termine jacobbiano questa formula di inversione che dovrebbe essere scritta sui palmi delle mani e sui muri di tutti quelli che si occupano di ricostruzione tomografica in quanto è veramente la formula maggiormente utilizzata nella pratica a questo punto ho una formula chiusa di inversione e da qui che poi comincio ad affrontare il mio problema in maniera discreta dagli integrali passo alle sommatorie da le convoluzioni continue passo alle convoluzioni discrete e posso implementare tutto al computer ora da un punto di vista proprio meramente del linguaggio della teoria dei segnali questi integrali appaiono sotto una forma che è familiare a chi si occupa di filtraggio ecco in particolare questo che vedete qui cioè il prodotto di due funzioni che possono essere pensate come risposta in frequenza di due segnali è di fatto un'operazione di filtraggio nel dominio delle frequenze ed è per questo che questo integrale qui si chiama di filtraggio invece il motivo per cui questo integrale più esterno si chiama di retroproiezione magari è meno immediato da queste formule però lo vediamo brevemente tra poco e un po' di conti abbiate pietà di me in realtà è tutto molto più semplice se ci arriviamo applicando il teorema che abbiamo visto finora quindi vi riscrivo quello che vi ho detto a voce io posso riscrivere la F semplicemente qui come un'antitrasformata di furie della F grande non ho inventato nulla questo lo sappiamo tutti qui ho fatto il passaggio dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari che sono nelle coordinate polari un po' strane perché vengono definite coordinate polari con segno quindi le variabili radiali angolari non sono come tipicamente facciamo la r da 0 a infinito e l'angolo da 0 a 2 pi greco ma facciamo variare l'angolo da 0 a pi greco e la componente radiale tra meno infinito e più infinito è per quello che ci vuole il modulo sennò sarebbe inutile scriverlo da qui a qui non abbiamo inventato niente da qui a qui applichiamo il teorema di sezione centrale quindi al posto di F ci andiamo a mettere la P e quindi quello che otteniamo è la formula di inversione precedente che vi ho fatto vedere che però nel dominio spaziale è preferibile perché qui vediamo che abbiamo una formula chiusa in cui inseriamo all'interno il dato a nostra disposizione che è la P piccola e passare da qui a qui è molto facile perché basta applicare il teorema di convoluzione e quindi dal prodotto nel dominio delle frequenze passiamo alla convoluzione nel dominio spaziale in questo dominio spaziale abbiamo questa funzione vedete la H che è la risposta impulsiva corrispondente a questo filtro a rampa quindi la risposta impulsiva corrispondente al filtro a rampa come dovrebbe essere fatta analiticamente dovrebbe essere l'antitrasformata di Fourier di modulo di nu adesso qualcuno potrebbe alzarsi in piedi e dire no ma come non è mica trasformabile secondo Fourier questa funzione perché non è L1 integrabile è una funzione che diverge in realtà questa va vista come la componente principale di Cauchy di questo integrale ma senza neanche ricorrere alla teoria delle distribuzioni delle funzioni generalizzate possiamo subito fare un'osservazione che è più che altro di tipo fisico ora tutti gli strumenti con cui possiamo acquisire le proiezioni del nostro oggetto hanno una banda passante limitata cioè non possono riprodurre frequenze spaziali infinite quindi questa P grande nonostante vi abbia detto in inizio che deve essere come dire deve avere un'estensione infinita nel dominio delle frequenze nella pratica al di sopra di una certa frequenza di chiamiamolo cutoff ha un contenuto informativo molto molto basso per cui quello che è limitato è il prodotto tra la P e la NU quindi tutto funziona come se noi ci mettessimo una finestra rettangolare a questo filtro il che ci permette questa volta di avere un'espressione chiusa analitica per la risposta impulsiva del filtro a rampa ok ora andiamo al passaggio successivo l'integrale interno l'abbiamo visto un filtraggio nel dominio delle frequenze e diamo un po' di capire quest'integrale esterno se uno prova a prendere un computer e applicare angolo per angolo questa integrazione che ovviamente mi diventa una somma quello che vede è che funziona tutto come se le singole righe cioè i singoli profili del sinogramma per ciascun angolo all'aumentare del numero di angoli venissero spalmati nel piano dell'immagine quindi come si dice retro proiettati ciascuno con l'angolo con cui è stato acquisito faccio un esempio molto molto semplice qui abbiamo un oggetto quadrato uniforme nel piano in cosa consiste l'acquisizione dei profili delle proiezioni se andiamo a vedere prendendo per esempio le proiezioni all'angolo 0 e 90 gradi quello che otteniamo sono dei profili rettangolari ora se noi questi profili rettangolari li prendiamo e in un'immagine bianca proviamo a spalmarli lungo le direzioni con cui sono state acquisite vediamo che proprio nella zona dove prima c'era l'oggetto questi due profili si sommano in maniera costruttiva cominciamo a capire qualcosa però da qui si vede anche che ci sono molte zone delle immagini in cui questi profili si sommano in maniera non costruttiva però rimangono lì nell'immagine è qui che interviene il filtro a rampa quello che succede da un punto di vista proprio implementativo quando noi andiamo ad applicare quella formula e la vediamo un po' come uno schema a blocchi in cui il primo blocco è questo filtraggio a rampa quello che succede è che nel sinogramma compaiono dei valori negativi cioè il fatto di aver ammazzato le basse frequenze spaziali e amplificato le alte frequenze spaziali genera in questo dato intermedio che io chiamo sinogramma filtrato dei valori che da un punto di vista fisico non hanno un vero significato cioè valori negativi nelle proiezioni noi non ne dovremmo avere perché gli oggetti sono tutti oggetti definiti positivi però dal punto di vista matematico lo scopo di questi numeri negativi qui in questo prodotto diciamo intermedio è proprio quello di far sì che durante la retroproiezione la somma la composizione al di fuori del supporto dell'immagine diventi di tipo distruttivo e che quindi mi vada ad annullare il contributo al di fuori dell'immagine oltre naturalmente al fatto che mi vengono ripristinate correttamente tutte le frequenze spaziali ecco il risultato della ricostruzione sempre la stessa simulazione al variare di numeri di angoli utilizzati nel campionamento la differenza tra le ultime tre in questa immagine non è chiarissima vi assicuro che c'è ma quello che si vede che evidentemente in questo caso soffriamo di un sottocampionamento angolare molto evidente questo rientra nella tipologia degli artefatti come si dice di aliasing tutti gli artefatti dovuti a sottocampionamento producono un certo aliasing che ovviamente è un disturbo la regola è quella di utilizzare un numero di campionamenti angolari che sia dello stesso ordine di grandezza del numero di campionamenti radiali questa è un po' una regola pratica che seguiamo quando facciamo le acquisizioni provo a far partire un filmato ecco invece cosa succede se noi salviamo il risultato della ricostruzione durante la composizione di tutti gli angoli da 0 a 180 gradi questo fa un po' vedere come nasce un'immagine tomografica partendo da qualcosa che è apparentemente incomprensibile e poi come dire il risultato finale di queste sovrapposizioni costruttive distruttive da il risultato che noi speriamo proviamo da un punto di vista proprio algoritmico a fare una cosa un po' esotica cioè a saltare il passaggio della filtrazione a rampa questo uno se lo può domandare che conseguenze ha cioè se vediamo l'algoritmo come uno schema blocchi il primo blocco del filtraggio dico che mi serve non lo so lo salto qual è il risultato il risultato è questo oggetto qui qual è la prima cosa che salta all'occhio beh è che i bordi non sono per niente definiti quindi evidentemente le alte frequenze spaziali cioè quelle responsabili di portare le informazioni sui bordinetti sono scomparse quello che ci possiamo domandare a questo punto è se esiste un filtro bidimensionale tale che da questo risultato incompleto posso comunque ritornare su questo che è il mio risultato desiderato ecco qui vediamo alcune formule che ci aiutano a capire che la retroproiezione vista come operatore aggiunto della proiezione quindi della trasformata di radon non è in realtà l'operatore inverso però quello che possiamo fare è trovare la forma analitica di un filtro che ci vada a ripristinare queste alte frequenze spaziali beh quello che viene fuori facendo un po' di conti è che se noi applicamo a questa immagine qui quella che vi ho appena mostrato un filtro a rampa però questa volta bidimensionale riotteniamo lo stesso oggetto che volevamo ricostruire questa ultima modalità quest'ultima strategia prende un nome specifico anziché chiamarsi filtered back projection si chiama banalmente back projection filtration ho invertito la f che prima era davanti e l'ho messa top continua continua ad essere sempre la fbp l'algoritmo più utilizzato nella pratica bene questo è quello che succede in r2 quando utilizziamo una geometria di tipo parallel beam cioè quella utilizzata da haunfield nel suo scanner ora gli scanner moderni invece utilizzano delle geometrie divergenti non vi parlo di tutto il formalismo di ricostruzione nelle geometrie divergenti in quanto nel piano si tratta di riparametrizzare il problema ancora una volta ci saranno dei passaggi di coordinate delle trasformazioni di coordinate ancora una volta ci saranno degli jacobiani di passaggio di coordinate questi termini aggiuntivi poi vanno a inserirsi nelle stesse formule di ricostruzione un po' come dei fattori di peso quello che invece vi volevo un po' sottolineare è l'analogia tra il problema della ricostruzione dell'immagine e il problema invece dell'ottenimento di una certa distribuzione di dose nel paziente nelle procedure di radioterapia faccio un piccolo cenno tecnologico forse appunto del guerra per quelli che sono gli scopi di questo seminario aveva parlato più estensivamente della diagnostica quindi dell'imaging come funziona la radioterapia a fasci esterni beh quello che si fa è fondamentalmente sagomare un certo fascio anche in questo caso di raggi X sono raggi X un po' diversi perché anziché avere delle energie che vanno nell'ordine dei chilo elettron volt hanno tipicamente delle energie che vanno sui mega elettron volt e questo è soprattutto vantaggioso per il cosiddetto risparmio cutaneo quindi per non dare troppa dose alla pelle come si va a creare una distribuzione di dose sagomata disegnata sul tumore che vogliamo curare allora esistono varie tecniche la tecnica un po' tradizionale è quella che si chiamava terapia conformazionale in tre dimensioni quindi l'unico tipo di conformazione che veniva fatto è proprio quello dell'estensione del fascio quindi il fascio veniva sagomato in due dimensioni attraverso dei collimatori a lamelle e questo cosa creava creava una distribuzione di dose su una certa parte del corpo ma all'interno di questo fascio l'intensità di radiazione era costante più recentemente in aggiunta alla conformazione esterna del fascio si è pensato di aggiungere la possibilità è stato tecnologicamente possibile aggiungere la possibilità non solo di conformare esternamente la forma del fascio ma anche di modulare l'intensità di ciascuna delle zone del corpo che veniva colpita quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto a questo approccio la cosa diciamo molto interessante secondo me dal punto di vista matematico è che quando abbiamo un fascio che seppur conformato esternamente ha un'intensità di tipo piatto cioè costante in tutti i punti solo distribuzioni di dose convesse sono possibili anche adottando più fasci attorno al paziente questo è molto importante per esempio noi potremmo voler evitare degli organi a rischio creando delle distribuzioni di dose non necessariamente convesse magari anche concave ecco la possibilità di avere una modulazione dell'intensità dei fasci da apre la porta alla creazione di distribuzioni di dose che possono essere in teoria anche convesse più alta è la capacità del fascio di conformarsi sul volume cosiddetto target è maggiore naturalmente la possibilità di dare alte dosi soltanto dove serve quindi nella zona malata risparmiando quelli che sono invece gli organi che devono essere salvaguardati da questo trattamento questo è proprio l'obiettivo di qualsiasi pianificazione di trattamento in radioterapia se fosse possibile e diciamo anche con le nuove tecniche di adioterapia è sempre un po' più possibile dare un'altissima dose soltanto nella zona malata con pochissima dose laddove non serve ecco quello è come dire l'obiettivo di tutta la radioterapia bene come funziona la pianificazione del trattamento vi ho detto prima nella terapia conformazionale senza modulazione di intensità potevamo variare soltanto la forma esterna del fascio nella pratica poi il fisico medico che doveva approntare il piano di trattamento cosa faceva? beh seguendo naturalmente alcune regole variava dei parametri in maniera tale che con un certo numero di fasci posti a vari angoli in maniera tale da evitare gli organi a rischio quindi per esempio il midollo o i polmoni si potesse andare a creare una distribuzione di dose più o meno simile a quella desiderata se ci pensate è un po' come fare un trial and error cioè quali sono i parametri che posso variare beh li vario in un certo modo e poi vedo con delle simulazioni il risultato che ne esce fuori e continuo a variare questi parametri quindi numero di fasci e intensità angolazioni filtraggi fino a quando poi la distribuzione che ottengo non si avvicina il più possibile a quella che sto cercando ora questo è già difficile con un numero di parametri basso provate a immaginare che cosa succede se oltre al numero di fasci e alla forma esterna prova ad aggiungere come variabili tutti i possibili valori di intensità all'interno di ciascun fascio ecco quindi il numero di parametri che posso andare a variare è elevatissimo questo approccio di trial and error non funziona più perché dovrei muovermi in uno spazio di parametri talmente elevato che questa strategia come si dice di pianificazione diretta non può più funzionare allora cosa si fa in IMRT si fa una pianificazione di tipo inverso quindi ancora una volta dobbiamo risolvere un problema inverso che è il seguente data la distribuzione di dose migliore possibile per trattare il paziente qual è la configurazione di tutti i parametri possibili che posso variare che mi danno luogo a quella distribuzione di dose o perlomeno a una distribuzione che ci sia data più possibile questo è un problema matematico che si può risolvere con le tecniche diciamo in parte simili anche a quelle che abbiamo visto per l'imaging quindi vediamolo da un punto di vista di diagramma di flusso nel forward planning abbiamo questo tipo di approccio quindi prova una configurazione di fasci data questa configurazione di fasci calcola la distribuzione di dose domanda questa distribuzione di dose è accettabile se sì allora fa il trattamento se no torna indietro e ripeti e cambia qualcosa nell'approccio inverso invece si parte da questo problema quale la prescrizione di dose e i constraint le limitazioni cioè le cose che devo proprio evitare gli organi proprio che non voglio toccare o alcuni parametri che non posso superare perché che ne so se risolvendo il problema inverso mi viene una soluzione in cui devo dare una dose infinita in un certo punto del fascio oppure devo creare una dose negativa che naturalmente non è possibile ecco quelli sono i constraint allora partendo da qui che cosa faccio calcolo ottimizzo e meglio dire ottimizzo le configurazioni di fascio sono soddisfatti i constraint beh se sì allora faccio il trattamento se no torno indietro e faccio un'altra iterazione quindi ancora una volta veniamo a scontrarci con delle tecniche che sono iterative esistono anche delle tecniche analitiche sono quelle basate sul cosiddetto point dose kernel cioè una come dire distribuzione di fascio assimilabile ad una delta da luogo nel paziente a una certa distribuzione di dose e quindi anche in questo caso poi la dose complessiva può essere studiata come la convoluzione tra questo point dose kernel e le caratteristiche del del fascio che stiamo andando a realizzare ovviamente questo kernel è spazio variante quindi è un qualche cosa di molto complicato poi da utilizzare nella pratica dal punto di vista di deconvoluzione vediamo qual è l'analogia con la tomografia beh immaginiamo che questa sia la distribuzione di dose che vogliamo ottenere nel paziente allora che cosa cosa succede quando facciamo un attack a questo oggetto beh otteniamo degli integrali di linea quindi la trasformata di radon di f dopodiché che cosa facciamo per ricostruirla da qui facciamo il filtraggio a rampa e la retroproiezione qui dovrei farvi partire il filmato ma insomma è lo stesso filmato che vedevate prima allora il problema è che per ottenere l'immagine che dovrebbe comparire qui e assomigliare a questo oggetto devo passare dal filtraggio a rampa quindi ho bisogno di valori negativi in questi profili ora ahimè se faccio l'analogia con la terapia quello che mi manca nel caso della intensity modulated radiation therapy è che non posso produrre dei fasci radianti di intensità negativa quello che posso fare però è trovare una soluzione nello spazio dei parametri che sia più come dire che sia adatti nella maniera migliore possibile alla distribuzione che voglio raggiungere e allora che cosa faccio beh definisco come in tutte le tecniche iterative come tutte le tecniche di ottimizzazione una funzione costo questa funzione costo che cosa dovrebbe rappresentarmi beh dovrebbe essere più elevata per quelle configurazioni che si discostano dall'obiettivo che dovrei raggiungere e dovrebbe avere un minimo laddove invece il target si avvicina al risultato da me desiderato e quindi questa è una possibile funzione costo dove qui abbiamo due distribuzioni di dose quella p è la prescritta come si dice cioè quella che vorrei ottenere quella d è quella invece ottenuta quindi è a sua volta una funzione di tutti i parametri in gioco nella pianificazione di trattamento e poi in aggiunta abbiamo una funzione che possiamo definire una funzione di peso perché ci può servire dare una pesatura a questa differenza beh perché magari ci sono delle zone del paziente in cui è più grave se la dose realizzata si discosta di molto dalla dose prescritta ci sono invece altre zone del paziente in cui le differenze magari possono essere accettabili quindi scopo della pianificazione inversa è quella di trovare un minimo di questa funzione costo in che spazio nello spazio di tutti i possibili parametri che regolano un trattamento di radioterapia problema che abbiamo in quasi tutte le tecniche di ottimizzazione e che spesso ci troviamo a che fare con delle funzioni costo che hanno dei minimi locali mentre noi vorremmo trovare il minimo globale quindi ci sono come si dice delle trappole se noi applichiamo degli algoritmi di ricerca del minimo al variare dei parametri di queste funzioni potremmo trovarci in un punto in cui il gradiente è zero in tutte le dimensioni mi trovo quindi in una valle ma in realtà mi trovo in una valle che non è quella che sto cercando in quanto è un minimo locale allora ci sono delle tecniche iterative che sono state inventate per l'appunto proprio per la ricerca dei minimi globali una di queste forse la più famosa quella del simulated annealing quindi l'annealing simulato l'analogia è quella diciamo della metallurgia ci sono dei processi in cui i materiali vengono raffreddati molto lentamente e in questo processo di raffreddamento ci sono delle trappole in cui il materiale potrebbe solidificarsi in una maniera amorfa anziché cristallina ecco quindi in questo caso si cerca di procedere nella ricerca del minimo evitando di fermarsi alla prima valle questo autore fa l'analogia dello sciatore che scende lungo la montagna ecco anche se trova lui un piccolo avvallamento non si ferma subito perché tutto sommato aveva un po' di momento che gli permette di superare questo ostacolo ora quello che vi ho detto se vogliamo si può applicare limitatamente a quello spazio dei parametri che sono i parametri fisici della macchina cioè configurazione dei fasci in modo tale da come dire produrre certe intensità ma poi in medicina lo scopo è quello di curare il paziente e ci sono molti parametri che non dipendono dalle configurazioni dello scandal della macchina di radioterapia che stiamo utilizzando ma dipendono proprio dalla risposta biologica dei tessuti questa è una figura da un capitolo scritto da Anders Bram che è uno dei pionieri della radioterapia ho avuto il piacere di collaborare con lui per attività editoriale e quello che fa vedere diciamo queste prime due figure è proprio quello che vi ho detto prima cioè differenza tra forward planning e inverse planning cioè nel primo caso faccio un trial and error e calcolo la dose nel secondo caso invece mi domando quali possono essere le configurazioni di fascio vedete questi punti interrogativi e quello che sottolinea Brame è che in realtà le variabili sono molto di più perché non è soltanto un problema di calcolare quali come dire parametri di fascio vanno a dare quella distribuzione di dose ma si tratta anche di capire quali tessuti rispondono come a che tipo di radiazione quindi una vera pianificazione inversa deve essere necessariamente una pianificazione di tipo biologico in cui i parametri da ottimizzare la funzione costo va estesa non soltanto alla distribuzione di dose fisica nel paziente ma anche alla risposta dei tessuti ai vari tipi di radiazione qui i punti interrogativi riguardano non soltanto gli angoli il numero di fasci la modulazione ma anche la tipologia di radiazione da utilizzare che siano fotoni che siano protoni che siano ioni ecco oggi abbiamo a nostra disposizione un armamentario ben più ricco di strumenti con cui trattare i tumori però effettivamente l'utilizzo corretto e ottimale di tutti questi strumenti può essere un problema un problema inverso non indifferente difficoltà bene io vorrei concludere con una breve disamina su quella che invece la ricostruzione nel campo della risonanza magnetica nucleare e questo si discosta un po' rispetto a quello che abbiamo visto finora perché in realtà i principi fisici proprio di ottenimento del dato sono un po' diversi però è interessante perché anche in questo caso siamo nel campo delle applicazioni dell'analisi armonica allora faccio un breve riassunto proprio insomma di come funziona un tomografo di risonanza magnetica allora quello che abbiamo è un magnete che è quello che proprio ci dà la magnetizzazione degli spin del nostro corpo e all'interno di questo magnete che è quello che dà il campo principale quello che chiamiamo B0 abbiamo poi un'altra serie di bobine che invece ci danno i cosiddetti gradienti di campo ora l'utilizzo di questi gradienti di campo e beh poi ovviamente abbiamo le bobine che sono dedicate all'acquisizione del segnale RF che proviene dal nostro corpo come risposta all'eccitazione a radiofrequenza che diamo dall'esterno beh diciamo come funziona dal punto di vista fisico vi è già stato spiegato quando il campo magnetico principale è spento non abbiamo una magnetizzazione netta quando il campo magnetico principale è acceso abbiamo una magnetizzazione netta e abbiamo anche che i nuclei cominciano a precedere con una frequenza caratteristica che è la cosiddetta frequenza di Larmor questa frequenza di Larmor è proporzionale all'intensità del campo magnetico ed è proporzionale anche a un fattore che è tipico della specie nucleare che stiamo investigando quello che succede dal punto di vista energetico è che c'è uno split dei livelli energetici proprio dovuto alla presenza del campo magnetico questo è l'effetto Ziemann e qual è lo scopo della misura che stiamo facendo in risonanza magnetica è quello di acquisire un segnale che sia proporzionale proprio alla magnetizzazione netta che abbiamo nel nostro paziente come facciamo beh lo avete visto nel primo incontro oltre al campo magnetico principale utilizziamo un secondo campo magnetico che in questo caso invece ha lo scopo di eccitare i nuclei in maniera tale che allo spegnimento di questo campo abbiamo un'emissione di radiofrequenze da parte di quei nuclei che erano allineati al campo magnetico e questo segnale ha un andamento temporale che è regolato dominato dai processi fondamentalmente di rilassamento che hanno dei tempi caratteristici il tempo t1 è dominato dall'interazione tra il singolo spin e il reticolo e il tempo t2 è dato dall'interazione tra spin e spin quindi il segnale che otteniamo è una funzione complessa di questi tempi di rilassamento che sono diversi per ciascun tessuto bene la domanda è ok ma l'immagine come la formiamo questo forse non è immediatamente evidente cioè quello che un po' avete compreso è che quando questi nuclei vengono eccitati emettono delle radiofrequenze ma queste radiofrequenze vengono registrate da delle bobine le quali bobine non sanno in teoria da quale punto del corpo proviene quel segnale un appiglio però ce lo dà proprio il fatto che la frequenza di l'armor è proporzionale all'intensità del campo magnetico quindi se ci pensate se noi proviamo a accendere queste bobine che hanno la possibilità di creare un gradiente di campo nelle tre direzioni x y e z quello che possiamo fare è fondamentalmente avere in ciascun punto dello spazio un'intensità di campo magnetico leggermente diversa e quindi anche una frequenza di l'armor diversa il trucco è che quando andiamo a rivelare il segnale ciascuna componente frequenziale sarà associata ad una posizione dello spazio diversa quindi fondamentalmente la ricostruzione dell'immagine si basa su una antitrasformata di furie del segnale che stiamo registrando è un po' più complicato di così proviamo a vedere questo schema allora immaginiamo un problema puramente unidimensionale quindi immaginiamo di avere un oggetto nel piano e immaginiamo lungo la direzione x di accendere un gradiente di campo allora in questo semplice problema unidimensionale che cosa abbiamo abbiamo che ciascun punto dell'asse delle x è associato ad una frequenza di l'armor diversa ma questo interessa tutti i punti che si trovano alla stessa x quindi facendo la trasformata di furie del segnale che registriamo da questa configurazione non otteniamo una fetta di questo oggetto ma otteniamo una proiezione dell'oggetto lungo l'asse y ecco una delle prime tecniche di ricostruzione si basava proprio sull'utilizzo di queste proiezioni lungo una certa dimensione e vi sarete accorti che questo dato che otteniamo è analogo a quello che faremmo in uno scanner TAC o PET facendo la proiezione lungo una certa direzione ora questo avviene applicando un gradiente di campo soltanto lungo l'asse delle x ma se io accendo contemporaneamente la bobina che mi dà il gradiente di campo lungo x e il gradiente lungo y posso ottenere la proiezione dell'oggetto su un angolo diverso a piacere e con questo meccanismo ritorno al problema di prima cioè ho le proiezioni ai vari angoli di fatto sto ricampionando la trasformata di radon dell'oggetto applico la filter e the back projection per esempio è una delle prime tecniche che è stata utilizzata oggi non si utilizza più questa tecnica quello che si fa di fatto è un qualche cosa di un po' più complicato ecco quello che vi ho appena descritto è la cosiddetta codifica in frequenza l'attuale tecnica di ricostruzione risonanza magnetica utilizza alternativamente una codifica in frequenza per una certa dimensione spaziale e una codifica di fase per un'altra dimensione spaziale cosa significa fare una codifica di fase? beh se noi durante l'acquisizione del dato di risonanza anziché tenere acceso il gradiente di campo lungo una certa dimensione lo accendiamo e lo spegniamo e acquisiamo il dato campioniamo il dato nel dominio temporale a gradiente spento quello che stiamo registrando è un dato tale che alcuni spin hanno guadagnato una fase diversa da quelli di altri punti dello spazio e questa differenza di fase di fatto ci aiuta di nuovo a distinguere segnali provenienti da una zona o da un'altra zona dell'immagine ora tipicamente quello che si fa per avere un imaging di tipo bidimensionale è utilizzare una codifica di frequenza in una dimensione e una codifica di fase in un'altra dimensione quello che poi alla fine andiamo a fare è campionare il cosiddetto K spazio dell'oggetto che di fatto è in pratica il dominio di Fourier che nel gergo della risonanza magnetica si chiama K spazio le sequenze di acquisizione sono tali da andare per ogni impulso di radiofrequenza a campionare i vari punti di questo K spazio e la ricostruzione tomografica in questo caso poi avviene diciamo banalmente attraverso un'antitrasformata di Fourier dei dati contenuti in questo K spazio bene questo conclude un po' la parte frontale ora dopo una dovuta e necessaria pausa a caffè e proveremo a fare una piccola dimostrazione chiamiamola come dire iconografica ecco più che interattiva perché ahimè il grado di interazione non può essere elevatissimo e proveremo a fare un po' di ricostruzione tridimensionale tramite volume rendering di immagini TAC e qualche esempio di imaging quantitativo sempre sugli stessi dati attività perché mi sono sentita di considerare un po' intelligente rispetto a altri porti diciamo due porti non mi diciamo e mi scuso prima volta non mi sono potuta venire perché ero un porto del piano nazionale di quella digitale dove sono obbligata ad andare e dove ci impegno a fare un tipo le cartine quindi danno le cartine e dobbiamo copiarle in modo da poter andare con collega che ha la stessa cartina oppure che ci rispondono con le campanelle ma noi dobbiamo venire ad andare con la nostra attività e questo è veramente il decimente per cui finalmente anche se ovviamente ho proprio scattito una minima parte non vedo che lei è avvento però porto meno so che può poter andare a vedere può poter andare a utilizzarlo in parte nella mia vita a scuola perché la speranza era quella grazie mille comunque le domande che faccio ho dato una propria la missione precedente lei ha già condizionato questa cosa io le volevo chiedere i tempi di realizzazione di questi interventi cioè la risonanza magnetica come le ha parlato di un tempo specifico che hanno diciamo si potrà sperare in futuro che possono essere ridotti oppure comunque il tempo di edizione dell'esame di amnottico rimarrà quello ci sono ci sono delle limitazioni fisiche limitazioni fisiche nel campo della risonanza magnetica che lei ha citato riguardano il cosiddetto rapporto segnale rumore il quale rapporto segnale rumore è dipendente da un certo numero di variabili tra l'altro la risonanza è un esame molto complesso anche perché la traiettoria all'interno di questo K spazio che ho provato a descrivervi e dipende proprio dalla sequenza di impulsi che viene fatta ma un parametro anche importante che influisce sul rapporto segnale rumore è proprio l'intensità di campo ora abbiamo la fortuna vicino alla nostra città l'istituto Stella Maris di avere una risonanza magnetica ad altissimo campo a 7 Tesla che è utilizzata però soltanto per scopi di ricerca quindi non per diagnosi utilizzando alti campi è possibile avere rapporti segnali rumore elevati in tempi più rapidi il tempo di trasferimento di tutto questo alla pratica diagnostica dipende da tanti fattori economici politici ma anche di sicurezza del paziente e non sono esattamente la persona più indicata a dare informazioni più precise anche perché la risonanza magnetica non è specificamente il mio campo di ricerca problemi che non possono essere risolti sono quelli sicuramente relativi al fatto che utilizzando delle radiazioni ionizzanti la maggior parte di queste tecniche non la risonanza magnetica ma per esempio la TAC e la PET la comunità scientifica internazionale concorde sul fatto che anche utilizzando delle bassissime esposizioni il rischio non è mai totalmente zero quello che possiamo fare è ridurlo in maniera da avere effettivamente una trascurabilità di questo rischio è già un rischio molto molto basso ci tengo a dirlo perché non vorrei che diciamo demonizzare queste tecniche quello che fanno sempre i radiologi è applicare un principio della radioprotezione che è il principio della giustificazione che significa che l'esame viene svolto se il beneficio al paziente è superiore al rischio e questo avviene ogni qual volta all'esame ha un'indicazione diagnostica ben precisa quello che noi possiamo fare è utilizzare delle tecniche software matematiche soprattutto iterative come quelle che abbiamo visto l'altra volta e che vanno a ridurre ulteriormente il rischio del paziente permettendo di ottenere immagini di pari qualità diagnostica utilizzando molta molta meno informazione partendo dai modelli fisici molto accurati del processo di acquisizione ahimè questo richiede delle capacità di calcolo molto elevate ma su questo diciamo la tecnologia è abbastanza pronta a permetterci di affrontare questo problema allora se non ci sono altre domande prego prego non ne sono a conoscenza risposta risposta ahimè secca probabilmente non voglio dire l'unico ma sicuramente il più utilizzato algoritmo per la ricerca del minimo globale ok allora proviamo a fare qualcosa che vi fa vedere un po' le potenzialità di questi strumenti ora sono stato molto indeciso effettivamente su come strutturare questa chiamiamola dimostrazione pratica perché sebbene nel nostro gruppo di ricerca manteniamo da anni delle librerie software per la ricostruzione tomografica sia in trasmissione che in emissione e tra l'altro queste librerie sono già trasferite all'industria ora avrei potuto mostrarvi qualche frammento di codice senza necessariamente contravvenire agli obblighi di riservatezza un tempo che non sarebbe stato granché istruttivo né tantomeno divertente sì è vero abbiamo sviluppato anche degli strumenti grafici per testare un po' questi algoritmi con dei fantocci ma è anche vero che data le complessità di calcolo che vengono utilizzate poi i tempi di ricostruzione spesso sono lunghi in questo contesto non me la sono sentita di parlarvi di queste cose quindi con la speranza di fare qualche cosa di forse un pochettino più coinvolgente ma potrei anche sbagliarmi eccomi quindi aspetto il vostro feedback in questo senso sono passato all'anello successivo della catena dell'imaging e quindi fondamentalmente adesso lavoriamo con un piatto già cucinato quindi con delle immagini che sono già state costruite all'interno di piattaforme di tipo commerciale solo allo scopo di farvi vedere alcune applicazioni e anche diciamo come si può ottenere magari un'informazione dall'immagine che non è immediatamente comprensibile dalla semplice osservazione visiva di queste fette e per questo motivo ho selezionato un'immagine TAC vedete qui nei tre piani ortogonali quindi abbiamo qui in alto a destra la sezione transassiale qui abbiamo la sezione sagittale e coronale e questo è uno studio che viene fatto con mezzo di contrasto perché poi l'obiettivo diagnostico è quello di andare a visualizzare l'albero vascolare in particolare le carotidi premessa quando uno dice guardo un'attacca ho fatto un'attacca praticamente non sta dicendo niente fino a quando non va a specificare con che tipo di quesito ha fatto quell'esame con che tipo di tecnica è stato eseguito l'esame stesso in questo caso stiamo guardando un'attacca eseguita con tecnica elicoidale con iniezione di mezzo di contrasto e con risoluzione uniforme su tutti i tre assi su tutte le tre dimensioni lo scopo di questo esame è quello di valutare lo stato delle carotidi queste sono immagini che provengono da uno studio di ricerca in cui andiamo a sperabilmente identificare dei parametri anche quantitativi delle immagini che ci permettano di avere una correlazione con qualche valore che ha un significato prognostico del paziente ma non entro ovviamente nei dettagli nello studio quello che vi voglio far vedere è come è possibile con alcuni software passare da immagini bidimensionali a immagini tridimensionali anche eventualmente ottenendo delle informazioni di tipo quantitativo beh allora cosa succede cosa fa l'operatore quando va ad aprire queste immagini intanto la prima cosa che si fa è un'ispezione visiva soprattutto partendo dal piano transassiale è quello che devo identificare in questo caso il mio target di interesse che sono le carotidi vado a ingrandire il piano transassiale ecco le carotidi le vedo qui sono questi due cerchietti quello che stiamo guardando è la sezione trasversale del vaso che è perfuso da un mezzo di contrasto basato su iodio fondamentalmente ovviamente non è uno iodio libero molecolare è uno iodio come si dice chelato cioè incluso all'interno di una struttura chimica di una gabbia che lo rende chimicamente e metabolicamente inerte altrimenti questo oggetto andrebbe come minimo nella tiroide non è quello che vogliamo lo iodio è utilizzato perché ha un alto numero atomico e quindi ha un elevato potere di attenuazione che mi permette poi di separare nelle immagini il contributo del sangue in cui questo iodio scorre dal contributo dei tessuti circostanti se io non utilizzassi questo mezzo di contrasto vedremo un'immagine in cui sangue e muscolo hanno fondamentalmente lo stesso grigio e quindi non vedrei assolutamente nulla ecco perché si usano questi strumenti ecco qui siamo fondamentalmente proprio all'altezza del collo queste sono le vertebre cervicali se saliamo ancora cominciamo a vedere ecco qui sto andando verso le spalle tra l'altro il problema delle spalle si vede da queste strisce orizzontali che sono un artefatto dovuto proprio alla diminuzione del numero di fotoni che ho nell'attraversamento del corpo in questa direzione e salendo arriviamo alla ecco parte dentale qui è molto evidente questo artefatto che è un artefatto molto famoso e molto tipico dovuto alla presenza di una impiombatura in un dente e questo è il sole il famoso sole che crea la non linearità nelle immagini che quindi crea degli artefatti e quello che si vede qui è anche che tutto ciò che ha un grigio più o meno chiaro è tessuto muscolare che ha una certa densità simile all'acqua invece il grigio un po' più scuro è fondamentalmente grasso che ha una densità minore naturalmente io posso selezionare la finestra di contrasto agendo su questi controlli andando a enfatizzare quello che più mi interessa ad esempio facendo una procedura del genere che però non è restituita con la stessa fedeltà anche dal proiettore ho una migliore capacità di distinguere la parte ossea e la parte invece di tessuto molle necessita un contrasto di tipo diverso quindi una finestratura come si dice diversa è questo che sto andando a fare io in questo momento l'informazione che abbiamo da queste immagini è sempre molta di più di quella che vediamo con una singola impostazione di finestrature di contrasto perché queste immagini ve lo accennavo l'altra volta sono codificate con un numero di bit pari a 16 quindi con numeri interi che vanno da 0 a 65.000 ora il range reale poi di utilizzo di queste macchine è un po' inferiore che tipicamente si va da meno mille che è il numero di ouncefield dell'aria fino a 3.000 4.000 5.000 che è il numero di ouncefield dell'osso compatto quindi sono già 5.000 6.000 livelli di grigio il nostro occhio si dice in maniera un po' praticona che vede a 8 bit nel senso che noi non riusciamo a distinguere in un'unica rappresentazione in un'unica fotografia più di 256 livelli di grigio ovviamente non sono proprio 256 e quindi quello che dobbiamo fare è prendere questa informazione che più di quella che noi possiamo distinguere e sceglierci la fetta di informazione che vogliamo visualizzare per lo scopo che dobbiamo raggiungere ora uno potrebbe dire beh come fai a vedere che queste sono le carotidi tanto per cominciare qui abbiamo un qualcosa di abbastanza evidente che sono processi di calcificazione che spesso avvengono a cavallo della biforcazione cioè in quel punto di carotide che dal tronco comune va poi verso carotide interna e carotide esterna salendo verso i vasi cerebrali questi punti di biforcazione hanno delle caratteristiche proprio in termini di flusso che sono tali da andare a alterare alcuni processi fisiologici che sono fondamentalmente ateroprotettivi cioè i nostri vasi sono sottoposti al continuo stress del flusso sanguigno quando questo flusso diventa turbolento in alcuni punti questi meccanismi ateroprotettivi vengono meno e si può innescare quella che è la malattia aterosclerotica ovviamente è una malattia multifattoriale dipende da tante altre cose e non sono certo la persona come dire più indicata a raccontarvelo quello che però dobbiamo fare qui è trovare la maniera di capire di aiutare il medico a capire se effettivamente questo paziente necessita di una qualche tipo di procedura per esempio invasiva oppure no o perlomeno andare a quantificare dei parametri che ci possono interessare ora sì è vero lo vediamo il vaso è questo bel cerchietto cerchietto perché fondamentalmente è un cilindro diviso da un piano trasversale però è un po' difficile andare a seguire la sua tridimensionalità quindi da queste immagini bidimensionali quello che potrei fare per esempio qui è andare a provare a fare una costruzione tridimensionale ora sicuramente mi aiuta il fatto di poter vedere l'immagine anche su altri piani andiamo a vedere per esempio quello coronale e se guardiamo lo stesso oggetto stiamo guardando la stessa cosa su un piano di taglio diverso qui si vede molto bene la biforcazione continuano a vedersi molto bene le calcificazioni che soprattutto all'attack danno un segnale molto elevato in quanto il calcio ha anche un numero atomico più elevato rispetto a quello dei tessuti circostanti ma ancora non apprezzo la tridimensionalità beh quello che posso fare qui è una serie di misure bidimensionali ad esempio posso utilizzare questo tool e fare banalmente una misura di diametro del vaso in questo punto a monte della biforcazione ho 6 mm quello che è venuto già qui effettivamente c'è una cosa abbastanza evidente che è un restringimento quello che si chiama una stenosi e questo crea fondamentalmente un problema per tutto ciò che sta a valle di questa biforcazione cioè corro il rischio di non dare sufficiente nutrimento ai tessuti che poi si trovano più a valle qui per esempio un diametro di 1.6 una cosa interessante forse da vedere qui è che questa stenosi non sembra essere prettamente a contatto con una parte di calcificazione di fatto la calcificazione si è un marcatore di gravità della lesione aterosclerotica non è necessariamente quello correlato a una prognosi come dire peggiore la cosa veramente peggiore della malattia aterosclerotica è quando la placca diventa instabile placca instabile significa che questa lesione può staccarsi dal vaso entrare in circolo e creare un trombo ecco il sacro graal dell'imaging cardiovascolare è proprio quello di identificare possibilmente anche da esami non invasivi come questo dei possibili marcatori di vulnerabilità di placca è uno dei campi forse più attivi della ricerca in questo settore bene proviamo a tornare ai tre assi e utilizziamo una caratteristica di questo software che ci permette sperabilmente di partire da questo che è uno stack ordinato di pixel in tre dimensioni e ottenere un'immagine tridimensionale come è possibile ottenere un'immagine tridimensionale da questo insieme di pixel beh allora innanzitutto qui abbiamo un'immagine che è di tipo come si dice raster un'immagine di tipo raster è fondamentalmente una mappa ordinata di pixel ognuno di quali è rappresentato con una certa profondità di bit partendo da un'immagine raster noi vorremmo invece ottenere un'immagine vettoriale cioè un'immagine che è fondamentalmente un modello digitale che può essere esplorato nelle tre dimensioni immagini vettoriali per esempio sono quelle che vengono date in pasto alle stampanti 3D se qualcuno pratica con questo settore beh quello che devo fare per rendere tridimensionale questo oggetto è tanto per cominciare andare ad assegnare una opacità arbitraria a ognuno di questi tessuti e poi applicare delle leggi di riflessione della luce che sono quelle tipiche come dire della nostra visione e quindi ottenere un oggetto che può essere visto così come noi guardiamo gli oggetti nella pratica nella quotidianità ecco quindi utilizziamo quest'altro strumento che è la cosiddetta funzione di trasferimento quello che vedete qui è l'istogramma dell'immagine che informazione rappresenta beh rappresenta la frequenza con cui ciascun valore di grigio compare nello stack tridimensionale a sinistra abbiamo gli oggetti meno densi quindi l'aria questo è in scala logaritmica non è in scala lineare quindi qui abbiamo fondamentalmente l'aria quella che è rappresentata dalle densità più bassa poi abbiamo un altro picco evidentemente qui la maggiore frequenza è quella dei pixel assegnati al muscolo quindi comunque questo grigio un po' più chiaro e poi abbiamo tutta una coda in cui abbiamo la parte ossea che non è associabile a un unico valore di grigio ma tutto sommato occupa un range di valori di grigio beh allora proviamo pian piano ad assegnare un po' di opacità a ognuna di queste componenti e vediamo se in questo riquadro riusciamo a visualizzare qualcosa che è comprensibile partiamo dall'aria aumentiamo questa funzione che appunto dicevo la funzione di trasferimento e cosa succede che stiamo dando un'opacità forse è il caso di spegnere qualche luce forse va bene ok forse così va meglio dunque è risultato deludente se noi rendiamo opaca l'aria fondamentalmente stiamo creando opacità in tutto quello che circonda il paziente quindi nascondiamo invece di visualizzare quello che ci interessa quindi questa fetta di istogramma noi la portiamo dal punto di vista di funzione di trasferimento a zero e la rendiamo quindi trasparente proviamo a vedere invece che cosa succede se io do opacità ha questo picco che fondamentalmente corrisponde alla maggioranza dei tessuti che ho allora prendiamo questo punto e aumentiamo l'opacità ecco se non fosse che questo questa ricostruzione è parziale quindi è tagliata nel volto imbarba a tutte le regole sull'anonimità se io conoscessi questa persona probabilmente la riconoscerei da da questa ricostruzione ovviamente per tutti gli studi di ricerca le immagini devono essere anonimizzate ora qui il volto è tagliato non per motivi di anonimizzazione ma perché proprio l'informazione che ci interessa non è non è in quel punto interessante simpatico iconografico certo non facciamo un attack tridimensionale per fare qualcosa che potremmo fare con la macchina fotografica o anche con delle tecniche laser per esempio il laser scanning è molto utilizzato anche nel campo della conservazione dei beni culturali se ci interessa soltanto la parte esterna dell'oggetto sicuramente se utilizziamo delle tecniche a raggi X è perché non ci interessa tanto l'esterno quanto l'interno ora ovviamente in tutto questo l'esterno viene gratis ma in questo contesto non ci interessa quindi lo mettiamo a zero proviamo invece a vedere cosa succede se diamo opacità a quello che sta più avanti nell'istogramma ecco qui cominciamo a vedere qualcosa di interessante che non vedevamo prima e che sicuramente non possiamo vedere né a occhio nudo né con un laser scanning ora in questa visualizzazione compaiono una serie di cose non tutte mi interessano ma ahimè spesso le informazioni sono sovrapposte nell'istogramma in quanto per esempio la parte vascolare quindi quella enfatizzata dalla presenza di mezzo di contrasto rientra nella stessa come dire finestra di grigi di numeri di Hounsfield anche della parte osseo di altre componenti che ci interessano meno è tipicamente l'informazione che ci interessa in una finestra abbastanza stretta qui dell'istogramma tra i 100 e i 400 numeri di Hounsfield proviamo a vedere che cosa cambia se noi innanzitutto ingrandiamo poi zoomiamo un po' nella parte che ci interessa ecco comincio ad avere un'informazione spesso ci possono volere ore prima di ottenere la visualizzazione che più è indicata a seconda dello scopo bene qui vedo un certo numero di cose che mi possono interessare innanzitutto vedo qualcosa che dalle singole fette bidimensionali assolutamente non potevo vedere cioè la complessità della rete vascolare nella sua tridimensionalità è informazione che sicuramente dal punto di vista del medico è molto interessante sicuramente la cosa che interessa di più è il fatto di poter identificare eventuali restringimenti ostenosi a valle delle placche o comunque in punti isolati di nostro interesse proviamo un po' a variare perché magari stiamo vedendo più di quanto ci interessa ecco questo è anche un problema della visualizzazione dell'image processing cioè noi stiamo vedendo una fetta di informazione che è contenuta nello stack tridimensionale ma quale fetta se io adesso prendo faccio una stampa di questo oggetto qui e la mostro a un medico lui non saprà mai cosa ho cancellato volutamente soltanto agendo su questi parametri e cosa invece mi è rimasto quindi è qualcosa di assolutamente arbitrario ecco perché è molto delicato soprattutto appunto fare diagnosi su questo tipo di immagini quello che si vede qui è che evidentemente c'è un restringimento nella parte di carotide esterna qui a valle di questa placca qui non è effettivamente immediato vederlo ma c'è tutta la zona in cui ho la calcificazione la calcificazione nella maggior parte dei casi è estroflessa rispetto al vaso in realtà poi la stenosi ce lo avvale qui sembra quasi che il vaso si interrompa ma in realtà non è che si interrompa è che qui poi ho un lume quello perfuso dal mezzo di contrasto che è troppo piccolo per essere ricostruito in questo tipo di visualizzazione e questo è un campanello d'allarme questa è proprio la tecnica di eccellenza per visualizzare in modo non invasivo questo tipo di lesione beh per farla breve questo paziente è stato sottoposto a chirurgia intervento di endoarterectomia quindi è stata come dire rimossa e rimpiazzata la parte di la parte stenotica ora quello che abbiamo fatto anche in questo protocollo di ricerca è andare a mettere la lente di ingrandimento su questo reperto chirurgico che in casi normali viene buttato nella spazzatura noi abbiamo chiesto al comitato etico per favore invece di buttarlo nella spazzatura potete gentilmente darlo a noi lo vorremmo studiare con altre tecniche a più alta definizione quindi in particolare la micro tac perché serve fare la micro tac ecco beh questa immagine dice molto ma non dice tutto se torniamo a questa famosa immagine nel piano transassiale e zoomiamo e zoomiamo e zoomiamo ancora beh arriviamo a un punto in cui ahimè non possiamo continuare a zoomare all'infinito cioè prima o poi ci scontriamo con i limiti di prestazioni del nostro strumento ecco quindi questo con un esame di tipo diagnostico convenzionale dando una dose di radiazioni finita e non infinita al paziente è il massimo che possiamo ottenere cosa succede se noi prendiamo questo segmento che è stato estratto dal paziente e lo andiamo a studiare invece con una tecnica di laboratorio che si basa sugli stessi principi fisici della TAC ma che è ottimizzata per gli studi ad altissima risoluzione otteniamo un'informazione di questo tipo ecco vedete che quello che stiamo vedendo qui forse non appare immediatamente chiaro ma è esattamente la sezione trasversa che qui vediamo sfumata in questo modo questo è una ricostruzione con un passo di campionamento di 0.3 millimetri in tutte le dimensioni questa è un'immagine ottenuta con 30 micron di risoluzione in tutte e tre le dimensioni se io qui continuo a zoomare continuo a percepire dettagli che ovviamente nella immagine di sopra non era possibile ottenere quindi è anche possibile andare a studiare un'eventuale struttura interna della placca e correlarla sperabilmente con dei parametri che hanno una rilevanza diagnostica è vero che non tutto è oro quello che luccica il fatto di fare una visualizzazione come si dice ex vivo quindi da un reperto chirurgico da una biopsia da una biopsia altera un po' quelle che sono le condizioni che io invece ho nel paziente intatto tanto per cominciare qui non ho la pressione del sangue che mi va a distendere i tessuti così come sarebbero distesi nelle immagini che ho sopra quindi è una distorsione un po' del vaso rispetto a quelle che invece ho in vivo quando il sangue c'è dentro ed è alla pressione fisiologica però ecco sicuramente una cosa che posso fare qui è quantificare la dimensione di calcio quindi il volume di zona calcificata con un'accuratezza molto più con un'accuratezza e precisione molto più elevata ecco questo è uno strumento software più che altro per ispezione qualitativa non è molto indicato per fare quantificazione passo quindi a un altro tool che è quello che vedete qui ah ecco questi software che sto utilizzando sono tutti scaricabili gratuitamente dalla rete questo che abbiamo visto finora è un pacchetto abbastanza famoso si chiama vedete qui ball view poi eventualmente avrò l'accortezza di mettere i riferimenti per lo meno il link da cui si possono scaricare questi programmi basta cercare su google e vengono fuori quest'altro invece è un tool che è stato sviluppato all'università dello Utah e che è maggiormente indicato per misure di tipo quantitativo ovvero per quella procedura che prende il nome di segmentazione cos'è la segmentazione? beh è creare oggetti vettoriali partendo da oggetti raster e una volta ottenuto l'oggetto vettoriale relativo a una certa parte del corpo che mi interessa andare a fare delle misure morfometriche in tre dimensioni di quel componente come si fa? beh allora immaginiamo di voler tornare su questa nostra carotide e misurare per esempio il volume di calcio ora lo possiamo ovviamente fare anche sulla sulla TAC clinica quindi non soltanto sulla sua controparte preclinica quindi sulla sulla micro TAC beh come si fa? allora innanzitutto quello che dovremmo fare è selezionare un sotto insieme dell'immagine onde evitare di come dire estendere questa questa nostra analisi quantitativa a una zona troppo elevata includendo quindi anche dettagli che non mi interessano facciamo quindi quello che si definisce nel gergo tecnico un crop che è la traduzione inglese di ritaglio quindi ritagliamo l'immagine nella zona che ci interessa quindi apriamo lo strumento apposito sto andando a selezionare un parallelepipedo nell'intorno della biforcazione della carotide qui non vedo molto bene eccoci qua solitamente queste cose si fanno su uno schermo da almeno 24 pollici altrimenti si diventa pazzi bene andiamo a zoomare sulla parte bene adesso che ho come dire ristretto l'immagine alla zona che più mi interessa che cosa posso fare per andare a segmentare quindi isolare ad esempio la parte di calcio ecco questo è un marcatore che viene utilizzato spesso volume di calcio nelle arterie beh prendiamo uno strumento che è quello che ci permette di mettere delle soglie nell'immagine di nuovo abbiamo un histogramma di nuovo abbiamo vari picchi allora che cosa possiamo fare qui andare a selezionare tutta quella parte di histogramma che è relativa al calcio se noi variamo manualmente la posizione della soglia bassa qui nell'istogramma vediamo che vengono selezionate una quantità maggiore o minore di pixel anche in questo caso abbiamo una certa arbitrarietà in quanto a causa della natura un po' sfumata di questi dettagli che sono abbastanza piccoli se confrontati con la risoluzione spaziale dello strumento e non abbiamo dei veri e propri contorni netti della calcificazione abbiamo dei contorni un po' sfumati quindi dobbiamo stabilire un criterio e quando ci mettiamo a lavorare con queste immagini utilizziamo sempre quel criterio un criterio per esempio può essere scegliere mettere la soglia al 50% del massimo rispetto al picco del tessuto diciamo muscolare che è questo tessuto qui applicando questo criterio metto la soglia in questo punto creo un layer dopodiché vado a creare quella che dicevo prima cioè un'immagine vettoriale spengo un po' di dettagli e sebbene sebbene non sia chiarissimo quello che qui è comparso è diciamo la struttura tridimensionale di queste calcificazioni più altre cose che mi interessano meno che però rientravano nello stesso parallelepipedo di selezione e nella stessa finestra di grigio ci sono delle tecniche ovviamente per isolare questa parte ma adesso perderemo troppo tempo la cosa che vi volevo fare vedere è che una volta che ho fatto questo livello qui posso andare in questo tool e dire calcola il volume siccome qui è tutto calibrato in millimetri allora il volume che ottengo è un volume in millimetri cubi quindi microlitri quindi questa analisi mi ha detto che in questo caso in questo paziente in questo punto ho 212 microlitri di calcio che ovviamente è più di quanto o nella verità perché sto contando anche queste queste zone che sono indesiderate proviamo a fare la stessa cosa sulla micro tac apriamo l'altra immagine non salvare non mi interessa beh e qui diciamo la strada è un po' più facile perché ho nel campo di vista soltanto il campione soltanto il pezzo che mi interessa non solo ho anche una definizione molto molto più netta dei veri confini spaziali di questa calcificazione quindi andando qui a vedere che forma ha l'istogramma ecco vedete che anche in scala logaritmica ho questo picco che è proprio il picco della componente calcificata quindi riesco a distinguerlo in questo caso anche nell'istogramma allora qui la scelta della soglia è ben più facile crea un livello andiamo a fare questa volta anche qui la misura quantitativa ecco vedete questo è quello che lo vediamo in grande questa è la distribuzione del calcio all'interno di questo frammento naturalmente mi sono perso un po' la parte tessutale un'altra cosa che si vede è l'elevato grado di frammentazione della placca ahimè questo però dipende anche dall'intervento chirurgico in alcuni casi il medico quando agisce quando opera deve come dire lavorare in maniera anche distruttiva tutto sommato però il volume complessivo di calcio viene mantenuto anche se la forma un po' cambia questo un po' ci disturba perché nei nostri scopi vorremmo andare anche a studiare dei parametri di forma per esempio studiare la geometria frattale di queste placche per capire se questo può avere un indice di aggressività se lo scopo è soltanto quello di misurare il volume allora gioco facile applico questa soglia che vi ho appena detto e qui viene fuori un volume di 152 microlitri che tutto sommato è compatibile con la misura che ho fatto di lì all'attac normale considerando anche che di lì avevo come dire dei dettagli però indesiderati che non avevo eliminato sicuramente in questo caso ho una misura più attendibile ecco un possibile parametro di studio è quello di andare a vedere quanto affidabile la misura del calcio fatta in un'attac clinica prendendo poi come gold standard come riferimento le misure fatte sul laboratorio quindi su macchine specifiche con questi strumenti ecco io mi fermerei qui potremmo andare avanti ovviamente per ore però ecco volevo soltanto darvi un po' di sapore di quello che può essere poi l'utilizzo finale di questi strumenti e spero di non avervi annoiato troppo anche in questo frangente grazie è sempre uno studio tridimensionale delle arterie nel caso delle coronarie abbiamo una problematica aggiuntiva c'è questo problema che il cuore batte si muove ecco tutto sommato per la nostra vita non è un problema però ecco il modo migliore di fare un'immagine in questo caso è fermare il cuore per una certa quantità di secondi ma ahimè i medici sostengono tutti in modo concorde che non è consigliabile allora la tecnologia ecco questo è anche uno dei miei settori di ricerca si è spinta a cercare di risolvere questo problema come l'ho accennato ma solo veramente come menzione la volta scorsa si usano delle tecniche di sincronizzazione abbiamo un segnale unidimensionale che è quello che proviene dall'elettrocardiogramma se noi riusciamo a mandare in ingresso l'ECG del nostro paziente alla macchina la quale macchina effettuerà l'acquisizione in maniera programmata soltanto in quelle fasi dell'ECG che noi attribuiamo a una certa fase cardiaca allora è come se virtualmente stessimo congelando il movimento del cuore puoi immaginare questo esempio se io mi metto a saltare in maniera periodica ripetutamente davanti a voi se qualcuno ha la briga di farmi una fotografia esattamente nel momento in cui io sono in aria quello che viene fuori è un filmato in cui io sto volando il principio è più o meno lo stesso ok allora prima di concludere che stiamo a parlare che è stato molto efficace nella sua presentazione grazie voglio ricordarvi che c'è stata quest'anno una coincidenza molto simpatica tra questo ciclo di lezioni e la mostra che inizierà presto a Palazzo Blue inaugurazione il 21 di marzo però la diciamo la mostra inizia il 22 inizia il 22 e sarà più una mostra sulle potenzialità dell'imaging è un percorso secondo me interessante perché voi entrerete nella mostra ed entrerete un po' nel passato l'idea che abbiamo cercato è un po' nell'organizzazione è quello di farvi entrare nel passato passando dal presente poi facendo riuscire in quello che è il futuro molto di questo futuro in realtà è già presente però va a coprire un pochettino tutte le branche delle applicazioni della fisica in medicina io credo che lo potrete trovare interessante anche poi soprattutto nell'interazione con i vostri studenti in coraggio a dare portare posti classi bene per quest'anno abbiamo chiuso il ciclo di lezioni sulla matematica nel mondo contemporaneo e ne cercheremo delle altre e ne cercheremo